troppo giovani per pensare alla pensione non è così per il gruppo giovani dell'unione artigiani di lodi e provincia nella loro prima uscita ufficiale nella sede dell'unione in via lago maggiore giovani artigiani guidati da marco angelini hanno deciso di occuparsi di previdenza complementare lo hanno fatto con l'apporto di ivan canevara promotore finanziario intermediario assicurativo perché mai pensare ad una pensione integrativa semplice perché in futuro l'inps riuscirà a coprire solo una esigua percentuale di quanto percepiamo oggi ribadito canevara a cosa ricorrere allora fra i tanti strumenti proposti oggi l'esperto si è soffermato su quelli regolamentati dal decreto 252 del 2005 vale a dire fondi pensione piani assicurativi e fondi preesistenti con un avvertenza fare sempre attenzione a ciò che ci viene proposto